Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio spiegarti come calcolare i rapporti aereo-illuminanti con Archicad. Nello specifico andrò a utilizzare lo strumento zona, andando a utilizzare una zona che è stata sviluppata da Graphisoft Italia. La zona è disponibile per tutti i clienti in Archiclub e il timbro di zona si chiama timbro zona parametrico 01GSITA. Una volta caricato all'interno della libreria avrai la possibilità nel pannello impostazioni timbro zona di andare a gestire i contenuti visualizzati, le leggende dei dati, i calcoli, eventuali testi personali e le impostazioni in testazione, oltre anche all'allineamento e alla grafica del timbro di zona. L'utilizzo del timbro è estremamente semplice perché una volta che è impostato basterà andare a scegliere il metodo di inserimento della zona, io nel mio caso sto utilizzando il bordo interno, basterà fare un click all'interno della stanza e un secondo click per l'inserimento del timbro. Come puoi vedere all'interno del timbro di zona avrai la destinazione d'uso, la superficie, la superficie finestrata che vengono calcolate in automatico dal programma, il coefficiente che potrai andare a gestire all'interno dell'impostazione del timbro, il rapporto illuminante calcolato automaticamente in base al coefficiente e lo stato se è verificato o meno. Avrai la possibilità di inserire questo timbro in tutte le stanze che vuoi, basterà andare a modificare solo esclusivamente il nome della zona in maniera da avere una destinazione d'uso differente e in tutti i punti dove andrà a inserire Archicad con le caratteristiche della zona andrà sempre a modificare tutti i vari parametri. Oltre a queste caratteristiche, nel caso in cui hai una situazione dove hai delle porte finestre, potrai intervenire all'interno dei settaggi del timbro alla voce calcoli, andando a modificare il sistema di calcolo della superficie delle finestre, impostando al posto di automatico potrai scegliere modificato, allora in questo caso avrai la possibilità di andare a sottrarre o a sommare alla superficie delle finestre che viene calcolata da Archicad un valore. Nel nostro caso abbiamo una situazione dove abbiamo due porte finestre di 90 per 230 di altezza, dobbiamo andare a sottrarre magari i 60 centimetri partendo dal basso, per cui per poter andare a eliminare dalla superficie delle finestre questo valore dobbiamo fare un semplice calcolo di 0.90 per 0.60 per 2, in maniera ad andare a sottrarre circa un metro quadrato. Vado a inserire il valore all'interno della voce a sottrarre. Il risultato che otteniamo è una superficie finestrata più piccola rispetto a quella calcolata. Vado a confermare con ok e immediatamente i calcoli vengono modificati all'interno del timbro. Questo tipo di operazione la dovrò fare in tutti i timbri associati a quelle stanze dove abbiamo delle porte e finestre. Oltre a questo avremo la possibilità di riprendere i dati e di riportarli all'interno di una tabella. Tabella che può essere generata utilizzando gli abachi di Archicad. Nel mio caso ho riportato i valori di destinazione d'uso superficie e superficie finestrata. Come possiamo vedere nella superficie finestrata viene preso il valore corretto, per cui con la modifica che abbiamo effettuato viene riportato il coefficiente e poi abbiamo il rapporto illuminante. Abbiamo anche la situazione, l'avevamo anche nel timbro, dove viene riportato se lo stato della stanza è verificata oppure no. In questo caso le due zone che ho inserito hanno come valore la verifica del rapporto illuminante sulla base del coefficiente impostato.